Se non è piatto, sono troppo notte conosciuta da Dicato per parlarne interiormente. Io vorrei fare solo due considerazioni. La prima è quella che riguarda i rapporti internazionali. I rapporti internazionali nascono da due ragioni. La prima è che qui in Piemonte siamo a 4 milioni e mezzo circa, ma poi ci sono altri 4 milioni di Piemontesi che vivono in giro per il mondo. E sono Piemontesi che si sono portati dietro in Piemonte non soltanto se di prima generazione, cioè i migranti dal Piemonte, ma anche quelli che sono nati già di seconda generazione, che sono nati da quel fatto, si portano dietro questa realtà. Si aggredono attorno alla funzione origine, hanno dei luoghi di ritrovo, degli incontri, e credo che sia importante che Piemonte porti in quei luoghi che il Piemonte sta facendo oggi sul piano culturale. Tra l'altro sono personaggi anche molto particolari, un coltito moltissimo, credo che è responsabile, il coordinatore del Piemonte di Totoro, che è originario di Birme, e che parla di Birme come in casa sua, e credo che nessuno a dire che si ricorda che non esiste. Siamo anche 30-40 anni fa. Sto a vedere come c'è un pezzo della nostra realtà, che nessuno di noi nota più di tanto, perché ci stiamo dentro, perché ci passiamo tutti i giorni. Invece c'è qualcuno che si porta dietro all'istanza degli oceani. Questa realtà è una realtà di origine, ma anche una realtà culturale, ci mostra che è necessario comunque portare una realtà pienointese attuale in questi luoghi. E con spettacoli che in genere funzionano molto di più nei paesi piccoli che nei cittadini, dove il senso di appartenenza, il senso di evitare è molto più forte. Il secondo è che portare dei prodotti culturali all'estero, anche in realtà dove non ci sono comunità di pienointese sindicative, come attivisi, per esempio, come abbiamo fatto quest'anno, prima da ERA a IELA in Almenia, significa anche dare alla cultura il suo senso maggiore, che è quello di far conoscere, di fare il contratto, di parlare, di attivare le porte. Guardate che in questi paesi caucasici ci sono paesi che sono sotto osservazione per un ingresso almeno lungo termine del mondo. Ci sono paesi che si raggiungono in tre ore di ERA, perché non sono così distanti. Ci sono delle realtà dove succedono delle cose che i giornali nostri non riportano assolutamente. Per esempio, quando siamo stati a IELA, abbiamo finanziato la produzione della Rondine di Tuccini, perché questi paesi hanno delle grandi tradizioni di ristoristiche e non hanno più un euro per il numero, non so più monetario, per questo prodotto. E tra l'altro una produzione della Rondine di Tuccini fatta col teatro stabile, il teatro nazionale di ERA, che è lo stato di fare 22 mila euro, cioè cifre con cui qui non si parla neanche mezzo tale. Bene, a IELA ci sono state arrisimando le elezioni del nuovo Presidente sul modello russo, cioè un Presidente uscendo lo più incandidabile che è diventato il Primo Ministro e un Primo Ministro che è diventato Presidente. Con un plicico, un gruppo di studenti che la piazza sembrale, proprio lo sembrato, hanno fatto manifestazioni pacifiche di protesta, la polizia che è intervenuta è ammazzata di otto, per cui abbiamo provviliare di una settimana di un mese questa inaugurazione. E quello che mi ha colpito è che quando siamo andati poi a IELA, per strada, siano delle persone, immagino un parco di TNC, che tiravano fuori dalla casa un volantino e si definivano in mano. Un volantino dove c'erano delle facce che immagino fossero i morti e delle scritte in almeno che non sono ovviamente traducibili e complessibili. Cioè, siamo in un paese ufficialmente democratico, sotto osservazione per entrare nella Unione Europea, con otto persone giovani che erano ammazzate dalla polizia, tra l'altro ha detto dell'ambasciatore italiano, non è che l'ambasciatore di Polizia, sia con gli estremisti di sinistra, in genere. Quindi, se loro stessi, tutta la Stata un'azione brutale, ovviamente, è ingiustificata dalle ragioni, qualcuno di famigliare i nemici costretti a arrivare fuori o all'antirpi nascosti, infiliati nella pasta o nei due passeggi dalla strada, perché non c'è altro modo di comunicare. Allora, io credo che di varie di scambio, anche di tipo culturale, per questi paesi, sia dare a questi paesi una grande opportunità. Perché significa far conoscere un altro mondo o un altro lieto. E per noi significa conoscere delle altre realtà e magari contribuire a farle conoscere in un momento, perché la democrazia si difende attraverso le consapevolezze, non si difende soltanto attraverso i proclami delle situazioni. Attraverso le cose che col passaparola, con l'esperienza diretta, si possono fare, ecco perché è importante anche andare a fare delle iniziative di questo genere, soprattutto se sono iniziative che non stanno solo nel chiuso di un teatro, ma che attraverso la strada, attraverso la piazza, attraverso lo spazio aperto, possono coinvolgere le persone. L'altra considerazione che si vede un pochino a questa è una riflessione sul significato di cultura, perché ormai la cultura pietrovina va sul giornale tutti i giorni per i tagli e per le difficoltà di bilancio, perché i testi comuni sono altissime, perché il taglio del bici è stata una grande operazione di immagini, ma il taglio del bici vuol dire che ci sono dettagli in meno, ma non è che questa Italia ha portata parte di conseguenza sui servizi, sulla cultura, su qualche cosa, ma comunque sono dei soldi in meno. In regione siamo un pochino meglio, per cui il taglio sulla nostra non dovrebbe essere drammatici, però siamo comunque in un periodo di difficoltà. Allora, adesso iniziamo in un periodo di difficoltà, secondo me è che tutte le forze della sinistra, del centro-sinistra facessero una riflessione su cosa intendono per tutti, perché se noi continuiamo sempre soltanto ad associare la cultura allo sviluppo turistico e al ritorno in termini di frequentazioni, investiamo tutto sull'allenaria reale, sulle regge Sabaone, sul museo del cinema, cioè su quei con territori che per il loro prestigio, per la promozione che hanno avuto per quello che rappresentano, sono sicuramente in grado di attirare un punto pubblico. Allora, se facciamo i dati di Venaria con 900.000 vegetatori circa in un anno, secondo sito dopo i fori imperiali, certo mettiamo insieme tante persone che avevano anche mangiato nei nostri ristoranti, magari da tutti i nostri alberghi, comprati qualche prodotto in un gastronomico nei nostri negozi, abbiamo fatto alzare il valore degli immobili che stanno attorno a Venaria e quindi c'è un grande ricordo di vita economica. Ma è davvero questa la cultura. Non perché questo sia spagliato, non ci deve essere, ma la cultura non è forse un qualche cosa più semplice, più divase, più diffuso, un'occasione per parlare, per conoscere, per vedere delle cose belle, per star meglio, per crescere, per naturali riflessioni, per confrontarsi. In quella che la cultura sia soprattutto questa seconda cosa, sia in una sorta di diversa intellettuale. E allora nei momenti in cui ci sono dei tagli bisogna domandarsi se questi tagli devono essere scaricati sulle realtà più piccole e sulla cultura diffusa o se non bisogna invece tenere conto che la cultura diffusa quella di base, quella fatta, quella che magari non va tanto sui giornali, quella che non ha dire turismo ma quella che fa bene alle persone che la frequentano non sia poi la struttura sul strato che permette anche di avere le grandi realtà come la mia con il museo egizio come il museo del cinema che è risparmente. Perché se immaginiamo che quando c'è l'Italia dobbiamo soltanto preservare le eccellenze italiane sul resto rischiamo di avere delle catedrali del deserto che non hanno adattato alla cultura del suo ruolo che poi li fa star meglio e li fa crescere la gente. E siccome si è avuto un periodo in cui c'è qualcuno che pensa che fa crescere meglio le persone e ovviamente dello stesso regolino e la riciclo di Tornò a due figuri non ci sono più come sicuri avessero paura del settore di ciclo di Tornò e forse dovrebbe invece che su una cultura diffusa per accogliere persone dalle scuole ai quartieri alle strade alle piazze ai piazze a quant'altro forse è proprio l'intestimento giusto per fare crescere e fare strumento in questo senso ho la sinergia. Grazie.